Preparo i miei grafici perché vorrei partire con lei da Wall Street, miglior settimana per l'S&P in questo 2023 sostanzialmente, un S&P che anche venerdì ha chiuso bene. Mi spieghi un po' perché questo è un cocktail molto affascinante, mercato del lavoro che mostra segnali di rallentamento, il tesoro che vuol vendere meno titoli di Stato e nel contempo quindi i rendimenti del decennale americano che scendono, tutto questo insomma ha aiutato il mercato, ma questo mercato cos'è che si sta aspettando? Sì esatto, tutti questi elementi che lei ha citato, la prima di tutto sul mercato del lavoro c'è stato il report appunto sul relativo al mese di ottobre, quindi un inizio del quarto trimestre di quest'anno un pochino più debole, un pochino più soft, ma comunque un mercato del lavoro che rimane ancora forte, quindi in particolare la borsa appunto vede questo, vede un mercato del lavoro ancora in ottima salute, ma che effettivamente si sta ribilanciando, si sta un po' raffreddando dai livelli così alti che avevano anche sostenuto un'inflazione molto alta e quindi portato la Fed ad avere un atteggiamento appunto con rialzo dei tassi, un tono molto da falco. Quindi diciamo che segnali di un mercato del lavoro che si sta riequilibrando, raffreddando, un tono anche la settimana scorsa che abbiamo visto durante il meeting di politica monetaria da Powell, un pochino più cauto e appunto l'annuncio del tesoro che emetterà meno titoli, avrà bisogno di emettere meno titoli rispetto a quanto ci sarebbe, insomma quanto aveva precedentemente annunciato a luglio, tutto questo ha fatto molto bene perché indica prima di tutto che appunto ci saranno meno emissioni, quindi meno offerta sul mercato da assorbire. E il secondo elemento è che appunto l'economia sta andando nella direzione sperata dalla Fed e quindi questo punta anche a un tono più cauto da parte della Fed e probabilmente che i rialzi dei tassi, che abbiamo visto molto severi, sono finiti. Esatto, Martina, quindi quando lei dice questo fa sperare che comunque l'economia stia andando nella direzione che la Fed aveva previsto, questo è un ottimo punto perché sostanzialmente la Fed, mi sbaglio se dico che potrebbe davvero sperare in un rallentamento senza che gli Stati Uniti finiscano in recessione? Le faccio questa domanda intanto perché poi ne ho un'altra. Sì, assolutamente, assolutamente, questa è la direzione sperata, quindi un rallentamento che appunto porta ad avere meno pressione sulla crescita dei prezzi al consumo, quindi questo è chiaramente il target della Fed, quindi un mercato del lavoro che si ribilanci. Abbiamo visto per esempio il terzo trimestre, quindi gli ultimi dati che abbiamo avuto, il PIL degli Stati Uniti è cresciuto a un livello annualizzato del 4,9%, quindi un'economia veramente che sta crescendo molto velocemente e questo non permette di avere stabilità appunto nei prezzi. Quindi la Fed si aspetta un rallentamento e in parte lo stiamo già vedendo con i primi dati relativi al mese di ottobre, ma assolutamente non una recessione per il momento. Chiarissima. Sto guardando anche i future che peraltro si stanno muovendo in direzione diversa rispetto a quello che sta facendo l'Europa. Lo vedete, sono improntati al rialzo. Secondo lei il mercato ha subodorato la fine del ciclo dei rialzi, mi spiegavano stamane dalle sale operative, che si scommette su un taglio della Fed entro giugno e poi 100 punti base di taglio entro fine 2024. Le risulta è un'ipotesi veritiera, secondo lei Martina e poi ho un'ultima domanda. Sì, allora sicuramente ormai siamo alla fine del ciclo dei rialzi, probabilmente il ciclo dei rialzi è già finito. Ora sui tagli il prossimo anno penso sia veramente presto per dirlo, di quanto possiamo aspettarci tagli il prossimo anno. In questo momento anche Powell ha dichiarato che stanno ancora valutando se siamo in una situazione in la politica monetaria, se sia effettivamente sufficientemente restrittiva. Quindi è assolutamente presto per parlare di tagli, appunto. Stiamo iniziando a vedere i primi dati che vanno nella giusta direzione. Penso che per capire quanti tagli ci saranno il prossimo anno bisogna aspettare di avere più dati macroeconomici e di vedere quale sia effettivamente il ritmo di rallentamento economico negli Stati Uniti e credo che per il momento sia troppo presto per dirlo. Chiarissima. Intanto vedo che l'Europa invece, a differenza degli Stati Uniti, ed è qui il ragionamento che volevo fare con lei Martina, oggi non si sta comportando bene l'Europa, è vero che ci sono anche dei casi specifici, ci sono però anche dei casi positivi che non la stanno aiutando, sono usciti i dati sul settore manifatturiero e per il quinto mese consecutivo l'indice PMI dell'Eurozona è sotto i 50, questo vuol dire ovviamente rallentamento, no? Sopra i 50 è espansione, quinto mese consecutivo. Se andiamo a vedere i servizi che di solito reggevano sul resto, è peggio mi sento, male in Italia, in calo in Germania, in Francia salgono ma sotto le attese del mercato, è sempre sotto i 50, insomma una situazione che dovrebbe dire ai mercati, mi dica se è sbagliato questo ragionamento, l'Europa sta rallentando, anche qui vediamo la fine del ciclo dei rialzi e quindi saliamo, perché scendono oggi? Sì, diciamo che in Europa il discorso è diverso, perché come ha detto anche lei, vediamo debolezza, andiamo avanti commentando i PMI, ma in generale in tutti i dati che abbiamo visto negli ultimi mesi, già il PMI insomma da appunto 5 mesi a questa parte, ma anche gli ultimi dati stanno segnalando un'economia in forte rallentamento, rallentamento, mentre negli Stati Uniti iniziamo a vedere i primi segni di un indebolimento abbastanza cauto, diciamo, in Europa invece già da diversi mesi vediamo dati di un'economia assolutamente molto più debole, quindi è questo quello che i mercati in questo momento vedono, non solo un ribilanciamento appunto dell'economia, ma proprio una contrazione. Come dire? Sì, l'economia si sta raffreddando, però occhio che invece qui la recessione non l'ha evitate proprio per niente probabilmente. Esatto, ma per esempio anche il terzo trimestre è uscito dalla crescita sul PIL, guardando al dato aggregato è in leggera contrazione, quindi appunto i PMI inserano debolezza da diversi mesi, quindi la situazione è diversa assolutamente. Chiarissima, chiarissima davvero. Grazie, grazie mille a Martina Daga. Martina, l'aspetto presto in studio. Grazie mille. Grazie, grazie di cuore a lei. Buona giornata, buona settimana. Allora,